Buongiorno, ci incontriamo nel video di oggi per parlare di un punto di agopuntura, il vescica urinaria 66, in cinese tonggu. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al mio canale tramite l'icona in basso a destra e di biffare la campanellina, ovviamente questo se vi fa piacere. Vescica 66 si localizza distalmente inferiormente alla quinta articolazione metatarso falangea. Tonggu, tradotto in latino, avviene vallis communicans vesicalis. Si tratta del foramen effusorium quinque inductorium, o punto Jung fonte dei cinque sciu antichi, qualificato con la fase evolutiva acqua. Vediamo le indicazioni cliniche per vescica urinaria 66, almeno per come risultano dei testi antichi. Questo agopunto sostiene l'orbita funzionale fegato, sostiene l'orbita funzionale mizza pancreas, aumenta l'energia chi? Disperde l'eteropatia vento, disperde l'eteropatia umidità. Vescica urinaria 66 si applica dunque per le malattie da vento. Un paziente lamenta a livello sintomatologico, l'epistassi, i disturbi dell'acuità visiva, la febbre ondulante, la tosse, l'oppressione toracica e la debolezza degli arti inferiori. Sintomo particolare è proprio il sangue dal naso. Vescica urinaria 66 si applica anche per l'eteropatia umidità. Qui abbiamo disturbi digestivi multiformi, meteorismo e incontinenza fecale. Il punto si applica anche per sostenere l'orbita funzionale fegato. Il paziente ha una sintomatologia caratterizzata da eccessivo timore, cervicalgia, rigidità nucale, vertigine, confusione mentale e ipocolera. Si stimola anche il 66 di vescica urinaria per sostenere l'energia vitale. Anche per i disturbi della vista, soprattutto in associazione al 67, si utilizza questo agopunto. Vescica 66 Tongu, tradotto in latino, diviene la valle comunicante. I nomi cinesi hanno quasi sempre un significato maggiore di ciò che si presuppone, perché si consolidano con lo scorrere dei secoli nella sinergia tra suono e senso. Anche il meridiano di Rene possiede a livello di Rene 20 un punto dal nome Tong Gu, ovvero sempre tradotto in valle comunicante. I due punti sono lontani ma la nomenclatura sottolinea attraverso l'identità di nome un loro rapporto particolare. Rene 20 è anche un punto congiunto al meridiano curioso Chong Mo. La stimolazione associata di Rene 20 e vescica urinaria 66 è una terapia tonica e anti-age, nella quale si libera lo in di Rene con lo yang di vescica urinaria, bilanciandoli tra loro. Le due valli comunicanti comunicano evidentemente tra loro. L'agopunto vescica urinaria 66 è allocato sulla strada di collettivo vescica urinaria di pertinenza dell'orbita funzionale che porta lo stesso nome. L'orbita funzionale vescica urinaria è associata a quella di Rene, nella fase evolutiva acqua. Queste due costituiscono un insieme di organi, funzioni e tessuti, tutti uniti dalla stessa finalità biologica e sociale. Un'orbita funzionale è dunque un insieme di organi e funzioni. Nella fattispecie vescica urinaria e Rene contengono insieme i seguenti. La vescica urinaria come organo e Rene, tutto il percorso dal glomerulo fino all'uretra, gli spinteri per fece urine, i capelli, il sistema nervoso centrale periperico, la somma di tutti i nuclei cellulari, gameti maschili e femminili, le ossa, i midolli, la produzione di sangue e per gli odontoiatri, gli incisivi dell'arcata superiore e inferiore. La vescica urinaria, pur intrattenendo rapporti con tutti i tessuti indicati, ha però un rapporto privilegiato con la vescica urinaria stessa e Rene, tutto il percorso dal glomerulo all'oretra. L'orbita funzionale vescica urinaria corrisponde a livello emotivo al campo emozionale della paura e a livello mentale al conflitto di sopravvivenza. Qual è la strategia per sopravvivere? Quali sono gli strumenti adatti? Come mi attrezzo razionalmente? Come posso manipolare il reale? Sono tutte problematiche che riguardano questa fase evolutiva. In soluzione il soggetto con questi conflitti esprime uno straordinario talento nello sviluppo tecnologico, nella gestione vincente della sfide poste alla continuazione della vita umana sul pianeta. L'agopuntura è in Italia atto medico. Il trattamento avviene dunque all'interno di un corretto rapporto medico-paziente, necessario a conoscere tutta la storia del malato, il suo carattere, la personalità, le malattie pregresse, quelle in atto, le medicine assunte. La seduta include sempre altri agopunti oltre il vescica 62, precise tecniche di stimolazione. Al protocollo di agopunti si aggiunge la prescrizione per bocca di rimedi, uno stile di vita adeguato e la nutrizione coerente. Si tratta pertanto di un trattamento decisamente complesso. Bene, siamo alla fine del video di oggi. Lasciate un commento, sarà mia cura rispondere a tutti. Spero di vedervi presto ancora. Arrivederci!